Io avevo semplicemente bisogno di un ascensore, non volendo gravare sui miei genitori, ho deciso di creare questa raccolta. Ovviamente non mi aspettavo che esplodesse come appunto è successo, infatti tutto questo amore è stato davvero incredibile. In occasione del suo trentesimo compleanno Morgana, da anni in sedia all'hotel a causa di una malattia genetica rara, aveva deciso di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per l'acquisto di un ascensore per poter così accedere alla propria abitazione in piena autonomia. Per uscire, per andare al lavoro per esempio, che io tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle due e mezzo alle sei sono in ufficio con il mio collega e anche lì andare a lavorare e rientrare a lavorare in autonomia sarebbe ottimo. Un appello che dopo numerose adesioni viene adesso raccolto anche da tutta la comunità di Parato Vecchio Stia, che sabato 5 ottobre si ritroverà sotto il tendone del Beer Fest per una cena con musica e spettacolo, i cui proventi saranno destinati al raggiungimento di questo importante obiettivo. Tutta Stia si è attivata per aiutarmi, grazie davvero a tutti, perché è davvero incredibile.